ciao ragazzi siamo tornati con il video su fortnite per parlare sto giro di bacchetta stella un bel ecozzo prima di cominciare e andiamo subito a vedere quando è che potrebbe uscire dov'è intanto dobbiamo sentire il rumore che fa perché fa un bel rumore lascia anche le stelline mentre si corre da avere strafigo sto piccone ecco le quali stelle di quando si piccola fa un bel suono sia quando si tira la piccolata sia quando si tira fuori raga l'ultima volta è uscito l'ultima comparsa ma non è possibile ultima comparsa 5 dicembre 2023 ok quindi 147 giorni fa e dopo dovrebbe essere la diciamo l'avvento delle della modalità leggo quindi in realtà potrebbe tornare prima del previsto anche se secondo me la epic ogni tanto queste cose le fa l'ha fatto con visione con la sciaborchiata qualche anno fa un po di tempo e e poi ha fatti tornare dopo un po probabilmente per creare ai non penso che ci sia un altro motivo per non far uscire bacchetta stella comunque questo 800 di bacca ragazza torna sciuppato lo perché asserò ogni volta siete qua a chiedermi quando quando torna quando torna un'altra possibilità sarebbe di vederlo dentro un armadietto perché praticamente usciva ogni 30 giorni cadenza è fissa nella settimana e 34 giorni in 33 giorni 32 giorni bacchetta a stellanza usciva poi ha smesso di farlo però probabilmente tornerà prestissimo secondo me già nel mese di maggio potrebbe sentisi senti che rumori che fa se cerchiamo un'arma ragazzi stupefacenti è per forza da avere comunque stavo dicendo secondo me a maggio si non torna lo fanno poi uscire dentro qualche armadietto di qualche strima raga perché è una cosa super richiesta e tra l'altro non è una collaborazione quindi magari come kratos o come non so le le skin moncler ferrari valenciaga che se non si trovano d'accordo le due parti non possono più tornare ma semplicemente un cosmetico epic quindi la epic non ha nulla da perderci ha tutto da guadagnarci quindi lo può fare uscire in qualsiasi momento e senza senza appunto chiedere permesso a nessuno ragazzi ci fermiamo qua aspettate che secondo me a maggio torna quindi non avete troppo da da attendere diciamo così le cose sono avete perso subito altre domande scrivetemele nei commenti se altri altri balletti altri altri picconi altre skin un'altra un altro balletto il prossimo video infatti sarà su fatti una risata che è un'altra roba che mi continuate a tartassare ciao